Signori e signori bentornati in questo nuovissimo video, il nuovo post partita dei campionati europei di calcio Polonia-Olanda ragazzi, prima partita del girone D, se non sbaglio, si già il girone D, oggi giocheranno anche il C con Danimarca-Slovenia tra poco e Inghilterra-Serbia stasera che andremo ovviamente a commentare entrambe, ma dunque oltre questo ragazzi la Polonia perde contro l'Olanda 2-1 una partita molto particolare, ma mi permettete di criticare assolutamente Koeman, ragazzi io non ho parlato, non ho fatto magari un video sulle convocazioni di tutte le squadre europee, ma comunque le convocazioni, cioè ci sono alcune convocazioni che sono scandalose, cioè già all'inizio non aver convocato Zirkze che a prescindere anche se hai Broby che comunque è più scarso di Zirkze forse, ma comunque metti che è più forte il Broby ma lo convochi comunque, non l'ha convocato, mentre invece ragazzi ci sono giocatori come Memphis, Debye che gioca, cioè io continuo a non capire, ma com'è possibile che fai giocare Debye titolare e non Zirse ragazzi, sulla fascia destra, Doomfries, ma che cazzo fai giocare Doomfries, ma fai giocare Firmpong che Doomfries per quanto si trasformi sempre in nazionale, perché il nazionale diventa una bestia cioè all'Inter vediamo l'ombra di Doomfries vero, ma comunque a prescindere metti Firmpong cioè abbiamo visto la stagione che ha fatto Firmpong, mentre invece è stata anche fortunosa questa vittoria perché alla fine la va in saccare dentro Vegost, appena entrato, che Vegost ragazzi è l'attaccante che tu convochi ogni anno ma che non sai perché lo convochi, perché con i club non è che sia tanta roba, adesso ho anche un pochino perso Vegost non so dove giochi, adesso me lo vado a guardare, ma comunque Vegost ci sta a convocarlo poi convoca ragazzi giocatori su tipo Vinaldum, ragazzi Vinaldum con tutto l'amore del mondo perché è un giocatore che io ho sempre amato, ma da dopo l'Europa del 2021 cioè non ha più fatto un cazzo con la Roma, si era rotto, adesso gioca in Arabia Saudita o in Catarno me lo ricordo ecco, Vegost gioca all'Offenheim, ecco, lui ragazzi è quello che fa sempre gol in nazionale è il classico giocatore che tu ti dimentichi l'esistenza nei club, ma che poi viene sempre convocato e fa gol in nazionale ecco, in questa stagione va bene, anche malissima, è 25-7, ma tipo ha giocato l'anno scorso metà stagione con lo United me lo ricordavo, 17 partite, 0 gol e aveva segnato anche l'anno scorso contro l'Argentina e i mondiali, mi sa che forse, ma neanche il suo ultimo gol cioè l'altro l'aveva fatto contro la Scozia, cioè è subentra sempre, non è che è il giocatore che gioca a titolare no, non ne gioca mai una da titolare praticamente, è subentra sempre ma comunque a parte questo, e aveva pure fatto mi sa doppietta mamma mia che giocatore Vegost ma comunque, oltre questo, questa Olanda, diciamo che ci ha provato, ha segnato, ma all'inizio proprio c'era disorganizzazione difensiva cioè questi hanno probabilmente una delle migliori difese dell'europeo sulla carta e ditemi di no, perché ci hanno il quartetto che è Ake, Van Dijk, De Vrij e Dumfries uno più offensivo, togliete Dumfries, mettete il Frimpong uno più offensivo tra i terzini, ovvero Frimpong l'altro più difensivo, ovvero Ake, che comunque fa la fase difensiva sempre buona anche Frimpong poi continuano a capire come puoi giocare con De Vrij e non con De Vrij continuano a capire poi, dunque, sulla situazione di calcio d'angolo si sblocca la partita con Buxa, che la va a mettere dentro Buxa, bella attaccante non mi ricordo adesso dove giochi, può essere che giochi con New York, forse può essere, no, all'Anthalia Sport l'aveva preso questa stagione, ma l'anno scorso mi ricordo che giocava al New England Revolution non a New York, ma a New England comunque segna Buxa poi arriva il gol dell'Olanda con il gol di Kakpo che va a totalmente spezzare Szczesny che comunque Szczesny ha fatto un bel partitasso per quanto mi riguarda successivamente un'Olanda che diciamo che ha attaccato di più della Polonia ma comunque c'è la concretezza andando a vedere le statistiche 12 tiri alla Polonia, 7 in porta 12-7, cioè ne hanno sbagliato 5 più del 50%, circa il 65% dei tiri in porta mentre faccio l'Olanda fa 21 tiri ok, ma quanti importa? ne fa 4, cioè quanto è? non c'è la percentuale, no, non c'è la percentuale però comunque è molto poco un'Olanda che comunque già con tre punti lo sappiamo che ipotechi praticamente basandote anche sulle migliori terze ipotechi, ipotechi o ipotechi come si dice ipotechi la qualificazione agli ottavi di finale io l'ho messa a seconda la Polonia l'ho messa a ultima perché è un'altra grande aspettativa questa Polonia, mettiamoci anche che era orfana di Lewandowski che si è infortunato nell'ultima amichevole staremo a vedere se la prossima partita giocherà al posto di Urbanski mi viene a dire uno dei migliori ragazzi per quanto riguarda della Polonia Zaleski Zaleski sulla sinistra ha veramente spinto tanto ah, stavo dimenticando Czesny, migliore in campo senza alcun dubbio della Polonia però forse se dovessi metterne uno dietro a Czesny ci metterei lui, ci metterei Zaleski comunque resta il fatto che questa Olanda più la vedo forte più continuo a non capire come fa cioè, gli allenatori ragazzi non si può vedere Koeman allenatore Koeman è veramente un allenatore che io per tempi ho difeso dicendo, eh vabbè, la situazione al Barcellona è molto dura sì, però lui ci mette veramente tanto del suo per far proprio far cagare le sue squadre oggi questa partita potremmo vincere non dico facendoci una passeggiata ma quasi perché comunque manca un sacco di roba c'è questa Polonia, voi la vedete chi c'è di forte? c'è Zilinski, ok, non male Kivior, non male Czesny, fortissimo Zaleski, non male e basta cioè, escludendo Lewandowski perché non c'è Lewandowski se mettiamo Lewandowski allora la cambia però comunque il fatto resta sempre che questa non è una nazionale come un pochino di anni fa dove c'era Blasikowski dove c'era Piszczek dove c'era a centrocampo centrocampo Krikoviak ce n'è un altro a centrocampo che non mi viene in mente continuano a capire ragazzi come oggi l'Olanda proprio ci stava per far inculare da questa Polonia alla fine li hanno inculati loro perché la prima palla toccata Feroz te la mette dentro comunque ipotecano la qualificazione staremo a vedere stasera Francia-Austria sarebbe perfetto per l'Olanda ovviamente un pareggio però sappiamo che è molto improbabile che succeda visto che oggi la Francia pronostico ne fa almeno 4 o almeno 3 lei fa all'Austria vedremo successivamente poi il terzo posto sicuramente sarà tra Polonia-Austria perché già con questa vittoria a meno che la Polonia non fa il miracolo comunque dovrebbe svolgersi così staremo a vedere io ragazzi vi saluto noi ci vediamo dopo col post partita i Dani Marcas-Domeni belli